Vai a vedere, molto caldo! Grazie a tutti! Che ale, che ale! Che ale! Che ci fa! Sessimo, che male! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Diego Ciucci, cambia la domenica, non cambia il risultato. Continuate a vincere, questa volta tocca a te. Eh sì, avevo vinto anche due domeniche fa, poi domenica scorsa aveva vinto Simone. E' già tre domeniche che arriviamo nei primi, arriviamo primi e spero di continuare così. Raccontaci il finale. Eh, nel finale ero rimasto un po' indietro a un chilometro e sono riuscito a 500 metri all'inizio dello strappo a riportarmi davanti e ai 300 metri sono partito per la volata. Grazie a tutti!